E' ormai caccia aperta a Omicron, la variante del virus che ha messo in allerta l'intera comunità scientifica mondiale, scoperta in Africa, dove la copertura vaccinale della popolazione è del 24%. Anche in Abruzzo, dove resta prevalente al momento la variante Delta del virus, l'Istituto Ozooprofilattico di Teramo, in laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti, in prima linea nel sequenziamento del virus ormai dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono in allerta per individuare un'eventuale mutazione sudafricana che preoccupa soprattutto per la sua contagiosità. Come sempre accade, in presenza delle varianti, ci si interroga per capire se il virus mutato possa eludere la protezione fornita dalla copertura anticorpale dei vaccini, che dovrebbero, in ogni caso, ridurre e attenuare le conseguenze cliniche in caso di malattia, mantenendo dunque la loro efficacia. E se il mondo intanto corre ai ripari, chiudendo ai voli provenienti dal Sudafrica, i primi casi di Omicron sarebbero già stati individuati in Europa. In Italia, il cosiddetto paziente zero della nuova variante riguarderebbe un uomo della Campania rientrato dal Mozambico lo scorso 11 novembre, facendo scalo a Fiumicino e per il quale sono già scattate tutte le procedure di tracciamento. Come annunciato già nell'escorsiore, il rafforzamento sul sequenziamento del virus a caccia di varianti sarà pertanto implementato anche nei due laboratori abruzzesi di Chieti e Teramo, ma senza allarmismi, come precisano i virologi, che invitano la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione e che, sottolineano, resta al momento l'unica arma efficace per scongiurare la diffusione del contagio e soprattutto le mutazioni del virus.